Il personaggio di oggi si ispira alla realtà per dare voce ai sentimenti. Pittore e disegnatore figurativo, nel suo studio rivive la grande tradizione del disegno. Di lui si sono occupati grandi storici dell'arte e personaggi della cultura, da Giovanni Testori a Vittorio Sgarbi a Marco Goldino. Andrea Martinelli ad Art Connections. Io ho sempre guardato la realtà, sin da quando ero bambino. Per me l'audio che era importante era disegnare e dipingere la realtà. Soprattutto l'idea di comunicare con gli altri era quello di disegnare. Soprattutto disegnavo sempre i volti. Perché alla fine poi vedere un volto di una persona e disegnarlo, c'è la volontà di conoscere questa persona. E quindi di conoscere anche il mondo. I suoi volti potrebbero sembrare iperrealisti, ma il loro è un realismo che coinvolge con la magia dello sguardo. Questi volti di questi personaggi hanno una caratteristica che li accomuna tutti. Cioè il fatto di guardare sempre l'osservatore, cioè di guardare fisso sempre chi osserva quell'opera. Ed è anche un mio modo di comunicare, un mio modo di dire, come dire, io ci sono, sono qua, guardatemi. E' riferito a me, ma è riferito anche a questi personaggi che poi alla fine sono quasi come dei personaggi, come posso dire, dei vagabondi che circolano in queste città di sogno, in questa atmosfera appunto molto surreale, quasi alla ricerca del proprio io, della propria identità. Gli occhi erano e sono fondamentali, perché in qualche modo devono catturare l'attenzione e si deve percepire un'anima, si deve percepire un mondo, che poi alla fine è il mio mondo, ma è il mondo anche di tutti noi. La mia ritrattistica nasce per amor lontano, quindi uso una cosa un po' poetica perché è poco appropriata. Cioè, in realtà, io ho rappresentato sempre qualcosa perché in fondo quel qualcosa mi manca. Allora avevo bisogno di riempirlo, di riempirlo questo ruoto. Infatti, tutto questo mio percorso creativo nasce dopo la perdita di un nonno amatissimo. E da lì è nata questa mostra a senescenze, dove praticamente io per diversi anni andavo negli ospizi, nelle case di cura, a ritrarre questi vecchi. Ed era un mio modo per ricercare una persona amata, perché io avevo voglia di fargli un grande ritratto. In realtà, pensavo che probabilmente era più giusto andarla a ricercare negli altri. Però ecco, in realtà, io questo nonno, sembra strano, non l'ho mai rappresentato. Cioè, ho rappresentato sì un nonno, ma era quello materno, quello che era ancora in vita. Però era, come dire, in fondo era sempre un grande atto d'amore verso questa mancanza. Cioè, nel momento in cui mi mancava, lo andavo a ricercare negli altri. E quindi è stato un continuo omaggio, come lo è stato anche recentemente nella mia ultima mostra agli uffizi, dove io ho raccontato una storia d'amore. Una storia d'amore dove una persona improvvisamente se ne va, va via dalla mia vita e la ricerco nella notte. E nella notte ho avuto questo dialogo notturno nella quale io ricercavo lei, la ricercavo nel ricordo, la ricercavo nella memoria. Quindi questa è la dimostrazione che tutto il mio lavoro, quindi dall'inizio degli anni 90 fino ad oggi, tutto nasce appunto da una mancanza. E quindi in questa mancanza, in questo rovello, in questo tormento, come dire, ho cercato una luce. Perché poi alla fine i miei quadri, le mie opere sono appunto molto ombrose, molto misteriose, anche a volte anche nei titoli. Perché in realtà la luce che c'è in queste opere sono sempre luci molto flebili, molto leggere, no? Però c'è sempre lontananza, una luce che appare, che dà anche un po' un senso di spiritualità, no? A questi lavori. E quindi, come dire, la luce è la speranza, la luce è l'amore, ritrovare quest'amore. Che lo vedi lontano, però senti che c'è, che è lì, che appare dietro a questi personaggi. E quindi, tra l'ombra e la luce, in questo continuo rovello, in questo tormento di ombre, mi sono ritrovato e con queste ombre mi sono anche un po' riscaldato. E questo è anche un po' una mia forma di romanticismo, perché alla fine io sono e mi recuto un eterno romantico. E anzi, me ne faccio anche un banto, perché oggi dire romantico è quasi una banalità, no? Però questa forma di romanticismo mi riscalda, mi riscalda il cuore, mi riscalda l'anima, mi fa ritornare indietro nel tempo, mi fa ricordare di quando ero bambino, il ricordo della carezza di mia madre, il ricordo di un sorriso del nonno, ma anche il ricordo di un amore, di un amore che non c'è più e che ritorna e che cerco di far rivivere attraverso anche un semplice disegno, attraverso la rappresentazione di un volto che è il volto di una vita. Alla recente donazione di un autoritratto alla Galleria degli Uffizi da parte dell'artista, è seguita una mostra con opere di Martinelli e fotografie di Berengo Gardini. Il progetto della mostra è stato seguito da Pamela Gori. L'incontro con Andrea Martinelli è avvenuto circa un anno e mezzo fa e da lì nasce la nostra collaborazione. Collaboro con lui in qualità di assistente per tutti quelli che sono i suoi progetti artistici e il primo appunto è stata la realizzazione della mostra agli uffizi. Entrato a far parte della collezione del corridoio vasariano, il grande autoritratto, La Bocca, racconta una storia di vita vissuta. È un dialogo con la notte, con i miei fantasmi, con i miei sogni, con i miei incubi, attraverso il volto di una donna e in quel momento ha fatto parte appunto dei miei sogni e della mia vita. Presso Palazzo Pretorio, dopo la mostra agli uffizi, i monumentali ritratti di Martinelli sono visibili nei minimi dettagli grazie a un progetto della Digital Contemporary Museum Hyper Portraits ideato da Elisabetta Rizzuso. Il progetto nella sua prima uscita si sviluppa nella contrapposizione della tradizione del disegno, cui abbiamo uno dei massimi rappresentanti della contemporaneità appunto Martinelli, e la mette in confronto con le tecnologie che diventano strumento della diffusione dell'arte e dell'immaginario di Andrea Martinelli. Il disegno è legato alla ragione, è legato alla narrazione, significa avere voglia di raccontare qualcosa di molto personale. Ho sempre disegnato la lontananza, la lontananza è legata al ricordo, alla nostalgia, alla malinconia. È un vuoto, è un vuoto che deve riempire. Lavoro per amor lontano, per qualcosa che appunto fa parte della mia vita passata e che cerco di ripercorrere attraverso un disegno, attraverso la narrazione di qualcosa che ha dentro il cuore. Con le sue opere è come se Andrea Martinelli ci conessi davanti uno specchio che riflette dentro uno stis. Con le sue opere è come se Andrea Martinelli ci conessi davanti uno stis. Con le sue opere è come se Andrea Martinelli ci conessi davanti uno stis.